ciao a tutti e ben trovati su questo nuovo video oggi da come avete capito anche dal titolo completo un album di figurine questo di king kong dopo più di 15 anni considerate che questo film uscì nel 2005 2006 ora non ricordo bene è l'album da lì a poco sarebbe uscito anche in edicola parliamo vediamo se trovo qualche riferimento 2005 e ora mi sono arrivate le nuove figurine le ultime e le andiamo ad attaccare assieme e allora prima le andiamo ad attaccare e poi magari vi faccio vedere l'album iniziamo 74 76 77 iniziamo dalla 74 ci tenevo molto a concludere quest'album perché ricorda anche una persona a me cara con cui ho vissuto quel periodo quindi è importante concluderlo momento storico la prima delle tre l'album come vedete è in perfette condizioni dopo 16 anni la 76 eccola qui questa figurina ha 15 anni 16 anni scusate trovate su internet una settimana fa dopo non so quanti giri su vari siti su vari collezionisti siti di scambio di figurine è stato un'impresa un po difficile ma alla fine ce l'ho fatta pensate che per prendere queste tre figurine ho dovuto scambiare un album vuoto di questo king kong per fare questo scambio ecco ne avevo uno in più e l'ho stambiato questa è l'ultima la 77 con naomi words finito l'ho finito ora sono molto felice ve lo faccio vedere nella sua interezza lo guardiamo per la prima volta finito insieme io poi me lo rileggo dopo aver fatto il video intanto lo sfogliamo insieme giusto per capire anche la l'impaginazione grafica che come vi ho detto risale a molti molti anni fa rispetto agli ultimi album che vediamo ora in circolazione sembra veramente archeologia delle figurine oltretutto la casa editrice che ha editato questo album la new links non esiste più quindi come dire aggiunge secondo me un valore in più alla collezione bellissima naomi words in questo film straordinaria bene se qualcuno di voi lo ha completato o lo ha e ancora deve completarlo o comunque ce l'ha ma è vuoto mi scriva nei commenti giusto per vedere se se ancora qualcuno persiste nella collezione di questo album ci avviciniamo alla fine guardate che bella questa pagina ecco la pagina finale poi vi faccio vedere un'altra cosa questa è la pagina finale con King Kong e Naomi Watts sull'Empire State Building ok ora questo era l'album lo metto un attimo da parte questa era una vocandina che usciva nello starter pack e poi c'era questo un poster un poster un poster dedicato al videogioco di King Kong come vedete new links bifacciale anche questo completato e dopo 15 anni 16 scusate l'ho concluso scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e grazie 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 grazie